E questo? Emorroidi Continuiamo con le spennellature in attesa dell'operazione Va bene E questo? Emorroidi Anche questo? Ma il dottor Gasperoni ha detto di metterli tutti nella stessa corsia Ah, se l'ha detto il dottor Gasperoni Continuiamo con le spennellature Bene Oh, caro Gasperoni Stavamo proprio parlando di te Ah, si? Come va l'abbassamento di voci? Meglio, meglio Che cura abbiamo prescritto? Le solite spennellature alla gola Vedo che ti fanno bene Hai qualche richiesta da fare? Si Quale? Che mi hai cambiato il pennello